Siamo con Tiziana Drago, senatrice FD, per l'Europa la demografia è importantissima, il futuro dell'Europa deve passare per la demografia? Sì, assolutamente, io oggi sono contenta di questo convegno che ha voluto il collega Procaccini che con la sua sensibilità ha compreso l'entità del tema e ha depositato una risoluzione alla Commissione Affari Sociali in Europa che è un corrispettivo della mozione che nel gennaio 2020 depositai in Senato votata da tutta la realtà di destra e cento destra ma purtroppo non dalla sinistra, nemmeno da quel partito che oggi esprime il ministro di riferimento ma non è una volontà di critica, oggi è una visione per il futuro, in un momento storico in cui pare che il futuro venga veramente messo a repentaglio dobbiamo assolutamente programmare delle proposte concrete e oggi sarà la giornata della concretenza.